Non esiste fare un certo tipo di campionato senza le palle, senza le palle non si va da nessuna parte, quindi la responsabilità è del sottoscritto, mi assumo tutte le responsabilità perché non esiste che io metta in campo una squadra, ripeto, senza palle, non esiste che una squadra normale possa concedere questo e non esiste che il Crotone che deve fare un certo tipo di campionato, soprattutto qua, debba faticare, perché poi secondo me la partita per come si è esposta forse è stata una delle partite, ma senza offesa per la Salernitana, più facili, perché c'erano tutte le linee di passaggio, con niente potevamo arrivare al gol, probabilmente il primo tempo c'era un po' di vento contrario, la Salernitana ci ha messo alle corde su tre o quattro consecutivi calcio d'angoli, però dal calcio d'angolo dove abbiamo preso gol noi siamo usciti fuori. Da domani in poi io mi prendo la responsabilità che non sarà più una squadra in questa maniera, quindi come ho detto che la responsabilità è mia perché è una squadra che non è neanche bella, perché io il bello lo raggiungo col carattere, con la voglia di impormi sull'avversario, di arrivare prima, di vincere le seconde palle, di vincere i contrasti, allora dopo sì potranno uscire le qualità, ora le qualità le dimentichiamo, cominciamo a fare il campionato che dobbiamo fare in serie B da protagonisti come è giusto che sia. Grazie a tutti.